Il bollettino dell'emergenza è aggiornato ora dopo ora. Le utenze elettriche sono completamente riallacciate, ma il sindaco spiega che chi ha ancora problemi può contattare il numero 800 34 34 34. Le zone verdi staranno progressivamente aumentando e in serata sarà interdetta al traffico soltanto la zona rossa. Pizzarotti traccia poi amare riflessioni. La piena che abbiamo subito, dice, è la più pesante dal 1910 e i danni da una prima stima ammontano a 100 milioni di euro compresi di privati e pubblico. La cassa di espansione sarebbe costata tra i 20 e i 30 milioni. I numeri dei mezzi impiegati del solo comune sono rilevanti. 20 camion, 18 pale, 18 mini escavatori, 15 spurghi, 8 botti, 4 ragni, 6 camioncini, 70 tecnici tra comune e partecipate. E ora, conclude il sindaco, serve l'impegno di tutti per trovare le risorse per realizzare la cassa di espansione e farà in modo che tutto questo non accada di nuovo. Dopo l'esondazione c'è oggi anche una presa di posizione del capogruppo PD in comune Nicola Dall'Oglio. Il governo scrive, grazie anche al lavoro dei parlamentari, ha rinviato il pagamento delle imposte statali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali. Il comune deve prendere esempio e fare altrettanto per famiglie, negozi e imprese colpite dall'alluvione, rispondendo così anche alle sollecitazioni arrivate dai cittadini e dalle associazioni di categoria. In particolare, dice Dall'Oglio, il comune può sospendere per almeno un biennio la Tasi e l'Imu e intervenire anche con IREN per annullare la seconda rata della tassa dei rifiuti e quelle per il 2015-2016. D'altronde già adesso nella tassa dei rifiuti paghiamo una piccola quota come contributo di ricostruzione per i territori terremotati della bassa modenese. Questo contributo di solidarietà può e deve essere esteso, dice Dall'Oglio, anche all'area colpita dall'esondazione del Baganza, chiedendo attraverso la regione che anche altri territori se ne facciano carico nella loro tassa rifiuti. L'amministrazione comunale deve poi accelerare i tempi per la stima dei danni al fine di procedere al più presto, prima dell'approvazione della legge di stabilità, alla richiesta dello stato di calamità da parte della regione. Questo lo deve fare senza carare farsi aspettative nei cittadini e nelle imprese. Lo Stato, dichiarando lo stato di calamità, non ha mai pagato per danni a mobili, suppellettili, auto e motoveicoli, ma solo per danni a case e strutture rese inagibili.